Allora, non faccio generalmente la recensione delle cover che fanno ad amici, quando fanno gli inediti ne parlo. In questo caso voglio approfittare, diciamo, di questa esibizione di un brano bellissimo, Primavera, mamma mia, che... tanti ricordi, insomma, tanti... questi sono pezzi storici, per parlare di un problema, diciamo, che si è creato proprio in studio lì, di questo dibattito sul fatto che a Esa gli si dà dello stonato, mentre a Sangio, nonostante anche lui, non è che sia il re dell'intonazione, no. Ruby dice... Rudy, Ruby l'ho chiamato, il caso Ruby, si fa la marchetta a Berlusca. Rudy dice che praticamente il motivo è che Sangioanni è pieno di stream, ormai è già un prodotto, è già famoso, è già andato, e quindi di conseguenza non puoi dire a uno che fa 7 milioni, hai stonato, mentre a Esa sì. Invece c'è dall'altra parte la difesa che dice, no, io dico così perché fanno due generi diversi. Io credo che oggi il discorso intonazione sia una stupidaggine, una cosa accademica e basta, perché è vero, sei in una scuola, e se fai un certo genere devi intonare, ok? Se tu stai prendendo, diciamo, un classico, stai cantando certe canzoni, non puoi stonare, ma se tu riesci a mantenere un'intonazione, diciamo, gradevole, pur non essendo nella frequenza corretta, questo non ti trasforma in un, capito, in un mostro, o comunque non sei un artista. San Giovanni, non stiamo parlando di una grande voce, non stiamo parlando di non si sa quale cantante, stiamo parlando di un ragazzo che ti rende gradevole qualunque cosa, e questa versione di Primavera è veramente gradevole, punto. Ecco perché è forte, ok? Il personaggio, ok? Che ha quella tipologia di bellezza che può piacere le ragazzine, ok? Che ha fatti concreti, Lady è una canzone che funziona a livello radiofonico, ha tanto inconscio, tanto sottotesto di cui ho già parlato, andatevi a recuperare, San Giovanni Lady ne ho parlato, ma alla base del successo di questo ragazzo c'è proprio un fatto che c'ha un timbro che è stonato o meno, è gradevole, e nella musica di oggi è questo che conta, perché ci sono tante grandissime artiste, ad esempio, che sanno cantare tantissimo, tu le metti lì, le ascolti, e dopo un minuto ti sei rotto il cazzo, perché se dobbiamo valutare tutto quanto in un discorso di intonazione tecnica, allora andiamo ad ascoltare la lirica, ok? Io mi commuovo quando sento Luciano Pavarotti, perché sento un mondo che ti racconta con quella voce, ok, va bene, lì devi mantenere un certo livello, ma non scordiamoci che quando Freddie Mercury fece la canzone con quella famosissima a livello musicale di lirico che fecero Barcellona, ora il nome non me lo ricorderò mai e se me lo ricordo è in francese, quindi figuriamoci come lo potrei pronunciare, ma quando fece appunto quel disco lì, mezzo lirico, mezzo rock, mezzo non si sa, Pavarotti disse che cos'è questa merda Luciano Pavarotti che fece l'accademico in quel caso, stava dicendo che Freddie Mercury non sa cantare? No, stava dicendo che si era inserito in un genere che ha delle regole, tu le puoi stravolgere quelle regole e poi magari qualcuno ti romperà i coglioni, ci sta, fa parte del gioco e ce lo prendi così com'è, però la verità nella musica di oggi è che essere gradevoli, se vuoi fare un prodotto pop, qui si parla di amici, si parla di pop, e allora è quello che conta, non se sei intonato o stonato, perché anche perché stonato cosa vuol dire a certi livelli, in certe gradazioni?